Senigallia Web TV, le notizie di oggi martedì 18 di novembre. Preallarme meteo, questa notte a mezzanotte 32, la situazione è stata costantemente monitorata, un repentino innalzamento di livello del fiume Misa si è verificato a causa dell'intensa pioggia pur in assenza di comunicazioni di allerta meteo. È stato attivato immediatamente il comitato operativo comunale COC che ha disposto una sistematica verifica dell'asta fluviale. Lo stato di preallarme nelle prime ore della mattinata è concluso e la situazione si è avviata lentamente alla normalità. Quelle che state vedendo sono appunto le immagini registrate nella tarda mattinata di oggi. Paura nella notte per l'innalzamento del fiume Misa, Senigallia. La città era stata sconvolta da un'alluvione nel maggio scorso, scontata dunque la massima allerta. Sentiamo allora il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi. La nottata è stata abbastanza complicata perché partivamo da un'allerta meteo che è mancata completamente, non avevamo contetta di quello che stava accadendo e quindi ci siamo mossi in maniera autonoma mettendo una guardiania sul fiume, visto che l'asta di Betolelle si era repentinamente inaltata. Dopodiché c'è stato questo controllo, abbiamo dovuto allertare le zone della Marazzana e poi successivamente quando l'onda di piena stava arrivando in città, la zona del porto e dei portici. Alla fine l'acqua l'ambito, i punti, ma la gestione penso che sia rientrata nella normalità quando abbiamo sciolto il cocco questa mattina alle 7. Proseguono intanto gli accertamenti sul crollo del controsoffitto della palestra della scuola Media Marchetti. Vigili del fuoco e polizia municipale stanno verificando se si sia trattato di un problema legato alle piogge o la copertura abbia ceduto per altre cause. La palestra rimarrà comunque chiusa. Sul crollo il consigliere comunale di coordinamento civico Roberto Paradisi denuncia una certa incuria che si protrae, dice, da 15 anni per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi. Su proposta dell'assessore Paola Giorgi al termine dell'iter di pubblica consultazione è previsto la giunta regionale ha adottato definitivamente la variante al piano della costa, un nuovo strumento di programmazione per gestire la fascia litoranea maggiormente danneggiata dalle violenti mareggiate del 2013 e 2014. Tra i tratti interessati dalla variante è quello che va dal porto di Fano alla foce del fiume Metauro, dalla foce del Metauro a quella del Cesano, dal porto di Senigallia alla foce del fiume Esino. A Roma, nella sala dell'auditorium del Palazzo dell'Esposizione di Roma, in via nazionale, il reporter senegalese Giorgio Pegoli sarà premiato nell'ambito della sesta edizione del premio giornalistico Golden Media Marche. Il premio giornalistico ha come scopo quello di attribuire il giusto riconoscimento ai giornalisti visti come depositari del progresso sociale, culturale ed economico di una nazione quanto la loro opera viene svolta con trasparenza sui fatti e non sulle voci. Primo appuntamento annuale per il corso di Sapore della Musica della Luas di Senigallia. Mercoledì 19 alle 16.30 presso l'auditorium di San Rocco prenderà la parola il celebre sassofonista e direttore maestro Federico Mondelci. Nella ricorrenza del bicentenario della nascita di Adolf Sachs viene celebrata la sua invenzione più rappresentativa, il sassofono. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come sapete è rinviato domani.